In questa seconda parte dei pronomi personali ci occupiamo dei pronomi personali che svolgono la funzione di complemento. I pronomi personali complemento svolgono la funzione di complemento, possono essere un complemento oggetto o qualsiasi complemento indiretto. I pronomi personali complemento hanno due forme, la forma tonica o forte che mette in evidenza il pronome, come vediamo dall'esempio l'allenatore ha detto a me di giocare come attaccante a lui di stare in difesa, oppure la forma atona o debole che nel discorso si appoggia al verbo. Susan mi ha scritto che verrà a Firenze, la porterò in giro e la farò divertire. Adesso andiamo a osservarli nello specifico. Forme toniche o forti, me, te, lui o esso, lei o essa, noi, voi, loro o essi, se. Hanno un accento tonico proprio e assumono un particolare rilievo nella frase, sono generalmente poste dopo il verbo, si usano in funzione di complemento oggetto, vogliono te al telefono, non Giovanni, oppure complemento indiretto introdotto da una preposizione, porta a lui questo libro, a introduce il complemento di termine, che è un complemento indiretto. Questa sera verrò con loro, con, introduce il complemento di compagnia, anch'esso un complemento indiretto. Le forme atone o deboli, mi, ti, lo, gli, la, le, ci, vi, li, le, ne, si, non hanno un accento tonico proprio, si appoggiano al verbo che le precede o le segue, sono chiamate particelle pronominali, si usano in funzione di complemento oggetto, ti vedo alla finestra, sarebbe come dire vedo te alla finestra, complemento indiretto di termine senza la preposizione a, stasera ti porterò il cd che mi hai chiesto, cioè porterò a te il cd che mi hai chiesto. I pronomi atoni, lo, ci, vi, ne, le trattiamo in maniera separata perché possono avere funzioni di più complementi. Il pronome lo può riferirsi ad un nome, a un aggettivo o addirittura ad un'intera frase. Quando si riferisce a un nome, come nell'esempio, lo hai accompagnato alla stazione, cioè hai accompagnato lui alla stazione. Aggettivo, penserai che sia egoista, ma non lo sono, quindi non sono egoista, sostituisce un aggettivo. Un'intera frase, andrai al cinema stasera, non lo so, sarebbe a dire non so se andrò al cinema, quindi lo sostituisce un'intera frase. C e vi sono dei pronomi personali atoni di prima e seconda persona plurale con funzione di complemento oggetto, complemento di termine o complemento di luogo. Come vediamo nella tabella, ci hai visto, hai visto noi, complemento oggetto, ci hai scritto, ha scritto a noi, complemento di termine, ci vado domani, domani vado là, vado in quel posto, complemento di luogo e così con vi. Ne invece è un pronome personale atono di terza persona singolare e plurale, che svolge la funzione di vari complementi. Come vediamo nella tabella, può essere un complemento di specificazione, di argomento, di agente, partitivo e di luogo. Ti affido il mio gatto, ne devi avere cura, devi avere cura di lui. Ne abbiamo già parlato, abbiamo già parlato di questo argomento. Vide Carlo e ne fu affascinata, fu affascinata da lui. Perché trattiamo a parte queste particelle pronominali? Perché saranno molto importante quando farete l'anno prossimo l'analisi logica, perché possono indurvi in confusione. Ricordatevi che possono sostituire tutti questi complementi. Combinazione di pronomi. I pronomi mi, ti, gli, si, ci, vi si possono usare in coppia con i pronomi lo, la, li, le, ne. Il primo elemento a funzione di complemento di termine, il secondo elemento di complemento oggetto. Il pronome ne è sempre un complemento indiretto. Vedete qui le forme melo, telo, glielo, selo, eccetera, eccetera. Poi abbiamo i... andiamo ad osservare qual è la posizione dei pronomi atoni. Si chiamano proclitici quando sono posti prima del verbo. Lo hai raggiunto? Oppure enclitici se posti dopo il verbo, formando con esso un'unica parola. Dovresti assaggiarlo, rimproverandolo continuamente, non fai che indisporlo. Rispondetemi al più presto. Questi sono enclitici, fanno un tutt'uno col verbo e si pongono dopo il verbo. I pronomi personali riflessivi si usano per rivolgere l'azione sul soggetto. Io mi lavo, tu ti vesti, i gemelli si pettinano. Vogliono dire me stesso, te stesso, se stesso. I pronomi determinativi. Quali sono i pronomi determinativi? Si suddividono in possessivi, dimostrativi, indefiniti, interrogativi o esclamativi, numerali. I pronomi possessivi sostituiscono un nome di persona, animale o cosa, indicandone il possessore. Sono gli stessi degli aggettivi possessivi. Sono preceduti, come vedete, dall'articolo. Concordano in genere il numero con il nome che sostituiscono. Sostituiscono il nome a cui si riferiscono, concordano con esso in gemene del numero, sono preceduti da articolo determinativo o preposizione articolata. Ricorda che anche proprio, propria, propri, proprie, può avere funzione di pronome. Abbiamo abitudini diversi, ognuno ama le proprie, sottinteso abitudini. In questo caso è un pronome possessivo. Pronomi dimostrativi sostituiscono un nome di persona, animale o cosa, di cui specificano la posizione nello spazio e nel tempo rispetto a chi parla o a chi ascolta. Questo sostituisce un nome vicino a chi parla. La scorsa estate è stata calda, ma mai come questa, vicinanza nel tempo. Codesto sostituisce un nome vicino a chi ascolta. Non usi questo modulo, ma codesto. Quello sostituisce un nome lontano da chi parla e da chi ascolta. Questa bicicletta è di mio fratello, quella è di mia sorella. Sostituisce il nome bicicletta. Stesso e medesimo esprimono invece un rapporto di identità. I racconti che mi stai facendo sono gli stessi che avevo già sentito. Sostituisce il nome discorsi. Ricorda che il pronome dimostrativo maschile singolare può sostituire un'intera frase. I nonni mi ascoltano con pazienza e cercano sempre di accontentarmi. Questo mi piace molto. Cioè, mi piace molto il fatto che i nonni mi ascoltano con pazienza e cercano sempre di accontentarmi. Come vedete, in questo caso sostituisce un'intera frase. Ciò è un pronome dimostrativo neutro che si può utilizzare come soggetto, complemento oggetto, complemento indiretto. Ciò accadeva in un'epoca lontana, in questo caso è soggetto. Affermo ciò con molta convinzione, complemento oggetto, di ciò mi occuperò in un altro momento, complemento indiretto, nella fattispecie complemento di specificazione. Ricorda che quando è usato come complemento ciò può essere sostituito dalla particella lo, ne, ci e vi. Lo esaminerò domani, esaminerò ciò domani. Ne parleremo più tardi, parleremo di ciò più tardi. Ci penserò dopo, penserò a ciò dopo. Vi provvederò io stesso, provvederò a ciò io stesso. I pronomi indefiniti sostituiscono un nome di persona, animale, cosa, indicandone in modo imprecisato una quantità o una qualità. Molti studenti amano l'ora di arte, tutti, sostituisce studenti, adorano l'ora di ginnastica. Aggettivo indefinito nel primo caso perché accompagna la parola studenti, pronome indefinito nel secondo caso sostituisce la parola studenti. Pronomi indefiniti con forma propria. Alcuni pronomi indefiniti svolgono solo la funzione di pronomi e non sono anche aggettivi. Quali sono? Chiunque, niente, nulla, ognuno, ognuna, qualcosa, qualcuno, qualcosa, uno, una. Questa tabella che vedete qui nella slide potete ritrovarla sul vostro libro e quindi guardare gli esempi e il significato dei singoli pronomi. I pronomi interrogativi o esclamativi. Laura, chi verrà alla festa? Che cosa mangeremo? Quanti saremo? Oppure esclamativi? Laura dice ancora, chi si rivede, Paolo, guardando il buffet apparecchiato, dice, cosa vedo? O Stefano, quando vede una festa così grande, dice, quanto avranno speso? E' un'esclamazione. Sostituiscono il nome di una persona, di un animale o di una cosa e si usano per introdurre una domanda, diretta o indiretta, o un'esclamazione. Quanti cioccolatini hai mangiato? Dimmelo, quanti? Nel primo caso è un aggettivo interrogativo che accompagna la parola cioccolatini, nel secondo caso sostituisce la parola cioccolatini. Gli stessi pronomi si possono usare per introdurre sia una domanda che un'esclamazione. Che cosa stai leggendo? Che cosa avete combinato? Vedete, si usa sempre che cosa. L'uso dei pronomi interrogativi. I pronomi interrogativi si possono usare sia nelle domande dirette che in quelle indirette. In questo esempio vediamo la stessa domanda posta in modo diretto e indiretto. Come vedete, i pronomi sono identici. Pronomi numerali. Delle mie tre cugine, due sono appassionate di tuffi. Forniscono indicazioni di quantità del nome che sostituiscono. Come potete vedere, sono corrispettivi degli aggettivi numerali cardinali, ordinali o collettivi. Ho quattro gatti, tre sono neri, pronome numerale cardinale, sostituisce il numero dei gatti, sostituendo la parola appunto gatti. Nella mia strada ci sono quattro palazzine, io abito nella terza, sostituisce palazzina, pronome numerale ordinale. Ho due zie, entrambe vivono a Napoli, sostituisce la parola zia, zie, ed è un pronome numerale collettivo. Con questa slide si conclude l'argomento dei pronomi determinativi. Arrivederci.